Ci sono cambiamenti antropologici, come afferma l'Istrumentum Laboris. Si nota un aumento del divorzio, ci sono matrimoni stabili, ma il divorzio aumenta. Ci sono più famiglie monoparentali, ci sono anche famiglie con minori capofamiglia, a motivo dell'HIV. Ci sono anche più famiglie dove manca il padre, sono le madri a guidare la famiglia o i bambini. E ci sono anche problemi di migrazione. La gente si sposta dalle zone rurali a quelle urbane in cerca di lavoro, perché c'è molta disoccupazione, soprattutto tra i giovani. Ma ci sono anche persone che si spostano da altri paesi nel nostro e viceversa. Questo destabilizza la famiglia perché la spezza, comporta povertà ed espone i bambini agli abusi sessuali oppure al coinvolgimento nella droga, nella pornografia o nella prostituzione. E questo rende la famiglia molto vulnerabile. L'obiettivo di queste persone è quello di sopravvivere. E questo veramente distrugge le nostre famiglie. La gente si è cercana per unaata di vivere, e in questo modo è veramente distrugge le nostre famiglie.